Ci sentite solo parlare voi stessi e in questo siete tutti e due coglioni, carissimi ma due coglioni. Berlusconi e Massimo, come si chiama quello? Facci interloquire! Assieme avevano militarizzato il Parlamento, quindi tenete presente questo. Adesso dovete salvare il Parlamento, dovete salvare il Parlamento. A questo punto, a questo punto, dico allora è un fatto, lei non la invitano come voi dite mai, ridendo su sta faccia. Ma non è vero che non la invitano! Ma perché?